30 settembre 1998, una data che non dimentico, quando il poliziotto in me morì, quella notte racconciti fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'ombrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret, non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso, ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Quanto si sarà allontanato? Quanto si sarà allontanato? Quanto si sarà allontanato? C'è nessuno? Quanto si sarà allontanato? chiedo scusa per l'intrusione. busco a un polizia. Vino qui? e viviremo conti si mette male. Sì Ehi! Contessa, necessito un pollo! Ti ricevo. Qual è la situazione? Che cazzo succede? Cos'è stato? Ma che cazzo? Si mette sempre peggio. Che cazzo succede? Ci cazzo succede? Eccolo succede? No. Eccolo succede? Voi? Non cazzo succede? Non cazzo! Nido, qui Condor 1. Qui Annigan, rapporto. La figlia del Presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Devo andare. A dopo. Con permesso. ... 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 Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Lord Settler, Lord Settler, Lord Settler, Lord Settler Todopoderoso. Ma dove stanno andando. Ma dove stanno andando? Grazie a tutti.